Primissimo video, oggi visto che il nostro primo video, prima di far vedere la casa vi devo spiegare alcune cose Prima di tutto io faccio i miei video, sia videogiochi che la mia casa, nel senso che le altre cose sono i videogiochi E da lunedì, giovedì, videogiochi e da venerdì a domenica, vabbè, la casa E oggi, visto che è venerdì, vi farò vedere un po', vi farò un turno della mia casa Questa è la mia stanza, dove dorme anche mia sorella Chissà qua, è che fa la scema C'è un sacco di peluccia Però non sono solo questi Qua c'è la pioggia Poi abbiamo anche questo con il di pentemma C'è anche io e le busce Poi qua sarà dove lavora mio padre Poi abbiamo anche giochi qua, un sacco di giochi Anche nel corridoio E anche qua sotto Anche qua sotto Però là sotto ci stanno i libri Guardate, là sotto ci stanno i libri Là ci sono i libri Qua ci sono i libri Poi di là ci stanno Ciao Ciao